Ciao a tutti ragazzi, con i prossimi video torniamo brevemente a Sydney e oggi vi porto all'Art Gallery del New South Wales che è situata vicino ai Royal Botanic Gardens ed è uno dei musei più importanti in Australia con una collezione che comprende sia l'arte australiana che quella aborigena e poi anche arte europea e asiatica quindi un po' da tutto il mondo. L'ingresso al museo e alla mostra permanente sono gratuiti mentre si pagano soltanto alcune delle esposizioni temporanee se siete interessati potete comunque consultare il sito e vedere appunto che cosa c'è quando voi siete in zona e quanto costa. Detto questo io vi lascio alle riprese che farò all'interno. Ciao a tutti. 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 Ciao a tutti.